Come possiamo aiutare lo sviluppo delle persone con cui collaboriamo? Innanzitutto una cosa che vogliamo insegnare la dobbiamo saper fare noi in prima persona. Questo è un tassello fondamentale, non puoi mai insegnare qualcosa che non sai fare in prima persona. Lo step 2 è mostrare quello che sai fare alla persona a cui vuoi insegnare. Molto spesso ci si ferma a questa fase, magari reiterandola più volte e alternando con momenti in cui la persona va da sola a fare quel tipo di attività. Perdendoci un passaggio, il passaggio numero 3 che è un po' quello del coach, cioè accompagnare la persona ma essere colui che osserva e che ha quindi la possibilità di dare un feedback successivo. Questa cosa mi è capitata anche a me di sbagliarla perché molto spesso mi sono fermato al mostrare. Qualche mese fa ho notato i dati di recruiting in calo nelle varie nostre agenzie e in quel momento ho deciso di vedere come venivano fatti quei colloqui. È stata una grande opportunità di crescita per le persone con cui collaboravano perché da quegli incontri avendo visionato come andava la fase di reclutamento ho potuto dare un feedback al sales manager che la effettuava. Da lì ha preso spunto e ha potuto fare nuove esperienze di selezione. Nel giro di pochi mesi sono incrementati tantissimo il numero di persone entrate all'interno del gruppo. La fase di visione veramente può essere differenziante e un vero propulsore per la crescita delle persone perché in quel momento tu gli puoi dare una chiave diversa di come potrebbero svolgere quella determinata azione. Quindi può essere veramente un passaggio importante per la crescita di ogni collaboratore. Io resto produttivo.